L'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati nei giorni scorsi ha espresso un'opinione sul termovalorizzatore di Cavaglià, progetto avanzato dalla società A2A. Su questo punto il referente regionale avrebbe sottolineato che l'impianto biellese non rientra nelle priorità regionali dei prossimi anni. La valutazione di impatto ambientale che fa capo alla provincia di Biella intanto non è ancora stata fissata. L'azienda proponente infatti avrebbe chiesto sei mesi di prolungamento dei termini così da poter fornire tutte le specifiche aggiuntive richieste. Emanuele Remella Pralungo, presidente dell'ente Area Vasta, risponde a tono alle affermazioni che provengono da Palazzo Lascaris e ribadisce che le opinioni personali e politiche non hanno valore. Questo diniego l'assessore e i suoi tecnici dovranno esprimerlo con voto negativo nelle sedi opportune ed in particolare in sede di conferenza di servizi. Ed ancora in calza affermando che non c'è un piano regionale di rifiuti. Questo presuppone che non vi siano priorità definite né tantomeno interventi programmati, in particolare per il biellese. La valutazione con tutti gli attori del territorio preposti procede come vuole la prassi. Inneco la sede, se lo riterrà continua Remella, potrà votare contro voto che ha un peso specifico che vale il doppio rispetto a quello degli altri. Ed in quel caso ne prenderanno atto. La provincia quindi procede con le scadenze programmate per la valutazione. Il no della regione con Marnati e lo stesso presidente Cirio, che qualche tempo fa aveva manifestato alcune perplessità, non blocca l'avanzamento del percorso di avvicinamento all'impianto, che seguirà quindi la procedura imposta. Non esprimo un parere personale su questo impianto, Chiosa, Remella. Non sono io a decidere. Dico solo che le prese di posizione assunte con questi proclami non hanno valore. Ho profondo rispetto per il lavoro della stampa e dei giornalisti, ma credo che le decisioni istituzionali vadano assunte negli ambiti definiti.